Sono una montagna di fattori reali, per dirne una, in Italia se si somma mafie, corruzione, lavoro nero, evasione fiscale, tutto quello che è illegalità, le mancate entrate fiscali sono qualcosa come 180 miliardi di euro l'anno, quindi fate due conti, in 11 anni l'Italia non avrebbe più un debito pubblico, non eccessivo, il sistema italiano invece di piccole e medie imprese artigiani, di piccole aziende eccetera funzionerebbe e funzionerebbe benissimo, l'Italia è uno dei pochi paesi europei, a differenza della Germania, che ha un avanzo primario, l'Italia ancora nel 2011 in piena crisi, in piena recessione ha chiudito, l'avanzo primario vuol dire al netto delle spese per il debito pubblico, quanto entra e quanto esce dalle casse dello Stato più 16 miliardi, con gli interessi da pagare sul debito pubblico siamo andati a meno 60 perché c'erano 76 miliardi di interessi sul debito, ma l'Italia come paese, come sistema industriale produttivo di piccole e medie imprese eccetera funzionerebbe benissimo, il problema è che ci troviamo in mezzo a una gigantesca tempesta perfetta, sull'Alitalia sono assolutamente d'accordo, è anche peggio di così, non li hanno caricati sul debito pubblico, i creditori sono 4 anni che aspettano e non sanno che fine farà, ci sono dei creditori dell'Alitalia che da prima che nascesse la Bad Company, perché alcuni debiti c'erano anche da prima, alcuni creditori dell'Alitalia che da 4 anni aspettano di sapere se avranno i loro soldi, in che forma li avranno, quando li avranno, per dirne una. Sulla questione del Giappone, il Giappone ha un rapporto tra debito e PIL che è il 230%, più del doppio dell'Italia e su questo sono assolutamente d'accordo che una delle cose fondamentali è l'idea stessa di società di senso civico, in Giappone c'è il piccolo dettaglio che mi sembra che il 96% del debito giapponese è detenuto dai giapponesi, con l'idea che noi giapponesi siamo lo Stato, noi dobbiamo dei soldi a noi, lo Stato da dei servizi a noi, noi paghiamo il debito e se il governo del Giappone emette dei titoli allo 0,1 sputo o il nulla per cento, i giapponesi, e se li comprano perché sono soldi nostri e lo Stato nostro. In Italia diciamo che questo senso civico negli ultimi anni è leggerissimamente fiaccato. Su questo, senza... vabbè, su questo venirebbe da rispondere con una battuta per rispondere alla barzenetta, alla storia che raccontavi prima, una storia reale di un mio amico che l'anno scorso è andato in vacanza in Norvegia e stava con un amico norvegese che lo accompagnava in giro, queste strade dritte, lunghissime, senza niente, limite di 50 all'ora. Sto qui l'italiano, girato verso l'amico e ha detto non c'è un poliziotto neanche a pagarlo, acceleriamo un po', andiamo un po' più veloce. Questo si è girato e ha detto scusami un attimo, fammi capire il ragionamento. Allora, noi ci siamo dati tutti insieme come regola, decidendolo a noi di andare a 50 all'ora. Io con i soldi delle mie tasse devo pagare un poliziotto che mi fa la multa perché io stesso non rispetto una regola che mi sono dato. Ma come cazzo ragionate in Italia? Secondo me l'idea sul fisco, sul debito pubblico, sulle tasse, ricalca un po' questa cosa del tirare a fregare invece di essere una società o uno Stato. Su altre cose assolutamente d'accordo, per esempio, hai accennato appena sulla Germania il modello energetico, noi abbiamo inseguito un modello energetico in qualche modo è quello francese, grandi centrali nucleari e pum, dall'alto verso il basso ai cittadini. La Germania ha un modello energetico a rete in cui per quanto fa freddo e non hanno pannelli e non hanno il sole, tutti hanno pannelli solari o dal compost o la paleolica e tutti sono produttori e consumatori insieme, quindi un modello orizzontale di produzione, distribuzione di energia che in questo momento è il modello verso il pendale. Noi abbiamo inseguito un modello francese e se non ci fosse stato il referendum oggi saremo con le centrali nucleari. Quindi c'è un po' un misto di tutto ma non direi che l'Italia non sarebbe messa così male. Ti do un ultimo dato che credo abbastanza rivelatore. Novembre 2011 Berlusconi si dimette perché abbiamo un rapporto tra debito e PIL sopra il 120%, è una follia, non possiamo campare così, non è possibile. Berlusconi arriva al governo, il primo governo Berlusconi nel 1994 e la parola d'ordine era il nuovo miracolo italiano. Abbiamo soldi da tutte le parti, stavamo una meraviglia nel 1994, meno tasse per tutti, sono talmente tanti i soldi che possiamo tagliare le tasse a tutti, grandi investimenti, grandi opere, il ponte sullo stretto, ci sono soldi dappertutto, lo Stato sta una meraviglia nel 1994. Quant'era il rapporto tra debito e PIL che stavamo così bene, nuovo miracolo italiano e tagliamo le tasse a tutti? 120%. Tra il 1993 e il 1995 il rapporto tra debito e PIL in Italia è sopra il 120%, esattamente come nel 2011 quando il governo Berlusconi scappa dimettendosi perché se non arriva il tecnico che ci salva il paese siamo morti. Cos'è cambiato in questi 17 anni? È cambiato che sopra la testa abbiamo una finanza che è 100 volte l'economia reale, che abbiamo una gigantesca montagna di debiti sopra la testa, che abbiamo tramite CDS poi scommettere sulla finanza, che qualunque intervento nell'economia reale è assolutamente marginale rispetto allo strapotere dei mercati finanziari. Dal mio punto di vista invece... Grazie. Grazie.